Siamo nel territorio comunale Piancastagnaio, in un magnifico posto, un luogo meraviglioso, siamo nell'area dell'agriturismo in Roccone, siamo soprattutto con Arne, 20 anni, vieni dalla Germania, musicista, appassionato di musica, soprattutto Arne, vorrei chiederti, hai fatto una grande impresa, in bicicletta da Kiel, dove abiti, sul Montamiata, quasi 2000 km, quale motivazione? Soprattutto è una bella velocità di viaggiare, posso vedere i dettagli dell'Italia, soprattutto e anche Austria, ho avuto due settimane e ho voluto sapere se posso fare questo? Certo, se riuscivi a farlo. Volevi osservare meglio i luoghi che attraversavi, perché in auto si va troppo veloci. Cosa hai visto di particolare? Cosa ti è piaciuto? Soprattutto del viaggio. Le Alpi erano molto belle, ma anche la Toscana e Emilia Romagna, con le piccole montagne, meravigliose. Ecco, ho visto piccoli video che mi hai mandato, alcune fotografie, hai passato dalla Germania, tutta la Germania, la Baviera immagino, e poi l'Austria, il Sud Tirolo, fino a giungere in Toscana. Quali difficoltà? Perché io ho pensato al caldo, un'estate veramente calda in tutta Europa. Nell'area del Po, nel fiume Po, era molto caldo, erano 42 gradi, è difficile andare in bici. Andare in bici, sì. E anche le Alpi, è un po' difficile, perché... Salita. Così, è così. Certo, certo. Però le Alpi ci sono passati i grandi campioni del ciclismo. Questa è la bicicletta, una bicicletta di circa 40 anni fa. Io vorrei far vedere anche il tipo di cambio, quindi stiamo negli anni 70, forse arriviamo ai primi anni 80. Soprattutto questa bicicletta di un altro ciclista, è usato, ma ho fatto qualche riparazione e non è così male. Posso viaggiare negli Alpi? Soprattutto mi riporti un po' a un ciclismo di tanti anni fa, dove quello che serve è anche oggi, le gambe, però non c'è molta tecnologia qui. Ci sono soprattutto le tue gambe. Allora, qua hai intenzione di fare altre esperienze simili? Sì, voglio andare anche in Spagna e a Portogallo, ma non so quando ho tempo per questo, perché è un viaggio così lungo. Certo. Allora, io sento della musica e tu hai anche questa passione, suoni. Cosa suoni? Suono il cello, facciamo un concerto in Pinkasuniaio. Eh, non è il primo anno che... No, no, no. Abbiamo fatto un concerto a 218. 2018? 2018. È bravissimo. Sì, è un bel paese. Ti piace? Cosa vi piace di questo posto? La solitudine, la natura? Cosa vi piace? Soprattutto la natura, ma anche non c'è molto turismo come naturale. Non è per i turisti, ma non è cambiato per i turisti. È così bello che possiamo vedere la vera Italia, non l'Italia per i turisti. È così. Grazie Arden, grazie tanti.